Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Spero che vi stia molto bene. In questo video io vorrei parlare nella lingua tedesca. Che cosa è il topic di oggi? Oggi io vorrei parlare di questo topic. Se dice nella lingua inglese. Motivation. Siete pronto? Andiamo. Ciao ragazzi, come va? Ciao a tutti. In questo video ho sentito la lingua inglese a parlare in lingua inglese. Io ho una domanda. Qual è la motivazione? Qual è la role di motivazione per la lingua inglese? Scrivi in le commenti. Me ne ho una motivazione per la lingua inglese. Per me è molto importante per te. Io non ho una motivazione per la lingua inglese. Qual è il problema? Ciao. Ciao. Grazie.